Ti stai preparando per uno shooting di fotografia di interni e sei molto preoccupato che la scena potrebbe non essere in ordine e quindi non rispecchiare quelli che sono le esigenze del cliente o semplicemente i tuoi standard? Non ti preoccupare, oggi andiamo a vedere alcune tecniche con cui potrai sistemare anche le scene più disordinate. È vero infatti che la cosa migliore è sempre avere una scena perfettamente in ordine, direttamente in loco, ma questo non sempre è possibile. Andremo a vedere per esempio delle casistiche in cui io avrei dovuto mettermi a stirare delle trapunte e oltre a non averne il tempo io non faccio quello di mestiere, quindi le trapunte stirate da me non avrebbero rispecchiato comunque le esigenze del mio cliente. Ecco però invece che con la post-produzione riesco a raggiungere quegli standard, impiegando del tempo ovviamente, però riesco a raggiungere il mio obiettivo e oggi vi faccio vedere un paio di metodi con cui potrete riuscire anche voi a migliorare le vostre fotografie di interni andando quindi a consegnare un prodotto migliore al vostro cliente. Una piccola annotazione personale, guardate attentamente l'immagine di questo video perché sto girando con una nuova lente che ho appena acquistato che è la Canon RF 14-35mm, per cui se vi interessa sapere qual è la qualità effettiva video di questa lente la state guardando in questo momento, fatemi sapere in un commento se vi piace. Vi ricordo anche che su questo canale io tratto principalmente fotografie e videomaking, quindi con recensioni di prodotti, tecniche, tutorial come questi, ma anche shooting e verie proprie esperienze sul campo, per cui se questi argomenti ti interessano io ti invito a iscriverti cliccando il bottone qui sotto e attiva anche la campanella per non perderti gli aggiornamenti. Molto bene, eccoci qui come potete vedere all'interno di Photoshop, quindi la prima cosa che facciamo andiamo a utilizzare un'azione che è per la separazione delle frequenze. Spiego in un altro video che cosa fa questa azione e anche come la si crea. Come potete vedere abbiamo due livelli, uno con le luci e uno con la texture. Noi ora andremo a lavorare sul livello della texture, quindi andiamo a zoomare sui dettagli. Come potete vedere il difetto che dobbiamo eliminare in questa fase è questo, quindi il letto. Andiamo a prendere il timbro clone, ma io ho già sbagliato perché non devo campionare tutti i livelli ma solo il livello corrente. Adesso va bene, vado a campionare da una zona non troppo distante e andiamo a eliminare tutti i difetti che riusciamo, perché questo ovviamente è un lavoro che stiamo facendo per mettere una pezza, in quanto la casa era stata ovviamente preparata per lo shooting, però è difficile curare questo livello di dettaglio, soprattutto se uno non lo fa di mestiere e quindi ogni tanto ci si ritrova con qualcosa da mettere a posto. Ora, in casi come questi, secondo me piuttosto che metterci lì a sistemare il letto, perché è vero che molte cose è meglio sistemarle in camera prima dello scatto, però io in questi casi non mi metto a stirare le lenzuola del mio cliente, perché lì credo che mi starei in qualche maniera abbassando a fare un lavoro che avrebbe già dovuto essere fatto, invece io preferisco di gran lunga mettermi a fare il mio di lavoro, ovvero perfezionare un'immagine come sono capace di fare io, anche perché credetemi non sono il più grande stiratore di questo mondo. Per cui in questa fase andiamo con questa tecnica a eliminare tutte le pieghe e le increspature, avendo fatto la separazione delle frequenze è più facile eliminare certi difetti, perché andiamo ad agire solamente sulla texture senza toccare, ecco vedete non devo avvicinarmi troppo ai contorni perché con questa tecnica si rischia di lasciare qualche sbavatura, quindi andremo poi successivamente a lavorare sul singolo livello dopo aver consolidato questi due livelli in cui abbiamo separato le nostre luci e le nostre texture. In questa fase andiamo semplicemente a eliminare il grosso, a eliminare cose che non riusciremmo a eliminare senza questa tecnica, quindi ve la faccio vedere perché è importante, perché ci permette in maniera molto rapida di eliminare il grosso di questi difetti come potete vedere in maniera abbastanza buona, nel senso che una volta zoomato indietro ora siamo a 500%, quindi è tanto. Una volta che zoomiamo indietro non saremo più in grado di vedere questi interventi, quindi sono a tutti gli effetti degli interventi invisibili. Dal momento che abbiamo un po' di tempo vi ricordo che questo è un canale che tratta temi come la fotografia, il videomaking e il design. In questo caso ci stiamo occupando di grafica post-shooting, questo è un servizio fotografico che ho eseguito personalmente proprio in questi giorni. Si tratta di un servizio fotografico per un appartamento che deve essere messo in affitto su Airbnb, quindi il tema diciamo che in qualche maniera deriva da un altro video che ho già pubblicato sul canale e che vi lascio in card che era andato molto bene. Per rimanere aggiornati su tecnologia, fotocamere, videocamere e tecniche per andare a utilizzare tutta questa tecnologia, ti consiglio anche di iscriverti a questo canale in maniera tale da non perderti i prossimi aggiornamenti. Come potete vedere abbiamo praticamente finito. Vedete che con la tecnica della separazione delle frequenze vengono via molto bene questi difetti. Si riesce veramente a recuperare l'irrecuperabile sostanzialmente perché viene via tutto in maniera molto molto precisa, molto morbida. Ovviamente non riusciamo ad avere lo stesso effetto che avremmo se fosse stato preparato tutto per davvero. Quindi fare le cose in macchina, fare le cose sul posto è sicuramente sempre meglio e ci comporta anche meno tempo perché ora io vi faccio vedere una foto sola. Fate conto che questo lavoro io magari l'ho dovuto fare su 5, 6, 10 foto quindi ci ho messo molto tempo. Sarebbe stato meglio ovviamente avere il pezzo sistemato direttamente in loco. Tuttavia siccome non sempre è possibile e ripeto non è il mio lavoro mettermi a stirare, io preferisco fare il mio lavoro anche perché così ve lo posso far vedere. Quindi l'ho fatto anche volentieri per questo motivo. Quindi preferisco andare a eseguire un lavoro di grafica piuttosto che mettermi a sistemare la scena in questo senso perché se c'è da spostare un mobile o dare una consulenza sulla luce quello è il mio lavoro. Stirare non è il mio lavoro ma non perché non lo voglio fare, sì certo anche perché non lo voglio fare ovviamente ma anche perché non lo faccio bene, io non so stirare bene. Ci vorrebbe un team di persone che preparano gli appartamenti prima di realizzare questi shooting. Ovviamente quando si lavora per un contesto da Airbnb non ci sono di mezzo i soldi, ecco qui ho sbagliato, non ci sono di mezzo ovviamente i soldi per mettersi a chiamare un team di persone che si occupino di tutto e quindi lo si fa diciamo in maniera casereccia. Quindi in questo senso vado io a mettere una pezza e a recuperare tutto il recuperabile. Diciamo che adesso se zoomiamo indietro il risultato non è niente male. Il prossimo step vi piacerà da morire. Come potete vedere abbiamo fatto una ricerca logo Netflix. Ora io vado a copiare questa immagine direttamente dal browser e vado a incollarla command V all'interno del mio progetto. A questo punto vado a posizionarla, i più smart avranno già capito che cosa devo fare con questa immagine, vado a posizionarla nei pressi del televisore, faccio trasforma e faccio distorci. A questo punto come potete vedere se io prendo le maniglie, le quattro maniglie che stanno sugli angoli, posso posizionare questa immagine in maniera tale che corrisponda perfettamente, e qui sta a me essere quanto più preciso possibile, la faccio corrispondere perfettamente allo schermo del mio televisore e vado a dargli ok. A questo punto cambio il metodo di fusione con lighten o schiarisci mi sembra che sia in italiano e vedete che il logo non si vede bene però si intuisce, è perfettamente posizionato sopra il nostro televisore. A questo punto creiamo un nuovo livello e andiamo a prendere un po' di strumenti di fotoritocco come per esempio il timbro clone. Ora campioniamo da tutti i livelli perché qui andiamo a sistemare un pochino questo piccolo pasticcetto con la vernice che c'è sullo zoccoletto. Questa è una cosa che sto notando adesso guardando le foto perché in fase di shooting non me ne ero accorto e comunque queste non sono cose su cui posso intervenire io in loco. Questa è una cosa che capite bene che non posso mettermi a verniciare durante uno shooting. Qui abbiamo il basamento del letto che era un pochettino sbeccato, anche questo me ne sto accorgendo adesso perché in fase di shooting non ci avevo fatto caso e comunque anche qui non sono un falegname, non potevo certo sistemarglielo in scena. Quindi lo sistemiamo adesso, questo è veramente questione di un attimo, semplicemente timbro clone, dobbiamo semplicemente stare attenti da dove campioniamo, campioniamo di frequente in maniera tale da fare un buon lavoro. Qui abbiamo una situazione da sistemare sul pavimento. Queste non è neanche detto che siano macchie, queste potrebbero benissimo essere i nodi del legno, potrebbero essere i segni del taglio delle assi, qualsiasi cosa siano è una cosa che preferiamo non mostrare in delle fotografie perché quando vogliamo vendere o affittare un immobile deve sembrare tutto perfetto. Ovviamente non è che stiamo imbrogliando perché poi la casa comunque è molto bella e queste macchie probabilmente vengono anche via e se non vengono via significa che sono effettivamente segni del legno, quindi comunque sono cose o transitorie o ininfluenti, quindi non stiamo assolutamente barando in questo senso. Andiamo a eliminarle queste, adesso qui sto veramente facendo il puntiglioso perché queste ultime che ho tolto sono veramente segni del legno che sono così perché questo comunque è un legno vero e quindi ci sono dei segni come potete vedere, io adesso ne rimuovo qualcuno dei più evidenti giusto perché non voglio che possa sembrare uno sporchino, però in realtà già così devo dire che ci siamo. Ok, a questo punto se esaminiamo la stanza vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo fare. Ora la prossima cosa che andiamo a fare come potete vedere mi è stata richiesta dal cliente probabilmente avrei tentato io stesso di farlo in ogni caso, qui ci sono dei led posizionati sotto il letto che sono molto carini, siccome abbiamo scattato con un diaframma chiaramente molto chiuso per avere un'ottima profondità di campo ci sono anche le stelline intorno alle lucette, i punti luce formano queste belle stelline che vedete, solo che erano discontinui quindi io adesso vado a clonarli fino ad arrivare al termine del letto in maniera tale che sembrino tutti uguali e costanti, qui c'è una cassettiera che si sovrappone per cui io gli vado proprio sopra, molto rozzamente gli vado sopra in questa maniera, vedete che sbordo anche un pochino, però adesso io vado a prendere il mio strumento lazzo, vado a fare un semplicissimo ritaglio poligonale, tanto qui sono veramente pochi punti ed è subito fatto, anzi prendiamo lo stipite del letto in questo modo, quindi vado a fare questa selezione, riattivo il mio livello e semplicemente premo delete così elimino le informazioni che non voglio ed ecco fatto, abbiamo ripristinato la nostra striscia di led, adesso andiamo a vedere che cos'altro possiamo fare io qui vedo che ci sono un paio di difettini qui nel muro, queste sono cose ovviamente che di giorno probabilmente neanche si vedrebbero, quindi vado a creare un clone stamp di tutto quanto quello che ho fatto fino adesso, creo un nuovo livello su cui andare a lavorare e vado a fare riempi in base al contenuto, credo che sia il metodo migliore per non dover impazzire con le sfumature in questo caso, quindi riempi in base al contenuto e vado a cercare di mitigare queste piccole imperfezioni del muro che poi sono veramente piccola cosa, cioè sono cose che capitano quando si fanno dei lavori e sono cose di giorno completamente invisibili con la luce rasente al muro che viene giù da queste lampade a muro, diciamo che vengono fuori soprattutto la sera un po' di questi difettini e quindi andiamo a mitigarli un pochino ok, direi che il grosso è fatto, vediamo un po', adesso zoomando indietro vediamo se ci viene in mente qualcos'altro che possiamo migliorare, qui sicuramente c'è qualcosa su cui possiamo andare a intervenire perché qui c'è un segno sulla vernice del muro, come potete vedere sembra un'ombra ma in realtà questa c'è anche di giorno, per cui andiamo a cercare di clonarla via questa cosa, questo segno sulla vernice, andiamo a clonare da un'area chiamiamola sana e andiamo a pitturare sui bordi in maniera tale da cercare di far sparire quella riga, andiamo a vedere come riusciamo a mascherarla e questo potrebbe essere il nostro risultato finale. Ora cambiamo completamente scena e ci rechiamo in una cucina che potrebbe essere dello stesso appartamento ma potrebbe essere anche di un altro. Ora come potete vedere qui abbiamo già cominciato a eseguire un lavoro per cercare di dare un aspetto un pochettino più civile a queste ante che sono appena state montate e quindi non sono perfettamente in bolla. Andiamo a fare innanzitutto una selezione sulla prossima anta, quindi come potete vedere un'anta che non era propriamente pronta per uno shooting. Andiamo a creare un nuovo livello e andiamo a prendere il timbro clone con cui cloneremo dall'anta di fianco che abbiamo appena fatto, ci posizioniamo in maniera tale da escludere le parti che non vogliamo, andiamo a clonare l'intera anta, che è un'anta come dicevo sana che abbiamo già risanato, andiamo a clonarla sopra all'anta che invece ha bisogno di qualche piccolo ritocchino. Abbiamo riempito tutti quanti gli spazi e quindi adesso abbiamo un'anta sana anche qui. Dobbiamo andare a sistemare la maniglia però, quindi eliminiamo questa maniglia che la prospettiva è sbagliata. Andiamo a vedere che sotto abbiamo la maniglia giusta, noi dobbiamo andare a prendere la maniglia giusta che sta sotto a questo livello, quindi possiamo fare in un sacco di modi diversi in realtà. Qui sta veramente alla creatività e al vostro metodo di mascheramento preferito. Io in questo caso ve ne faccio vedere due, vado a creare una maschera e la inverto, così ho rivelato la nostra maniglia. Adesso vado con dei pennelli, vado a cercare di tirare fuori quelle che sono le ombre di questa maniglia perché c'erano delle ombre intorno, quindi vado a tirare fuori l'ombra della maniglia. Posso andare poi a rifinire quanto meglio credo, però siamo anche a 400% e quindi diciamo che se ci fossero delle imperfezioni le dovremmo già vedere abbastanza bene. Il fatto che qui non si veda granché di impreciso vuol dire che già è un lavoro fatto abbastanza bene. Possiamo andare ad agire sulla sfumatura della nostra maschera per cercare di dargli un aspetto quanto più decoroso possibile. Se zoomiamo al 100% il nostro intervento dovrebbe essere invisibile. A questo punto facciamo un'altra cosa. Creiamo un gradiente e andiamo a prendere un gradiente da nero a bianco. Questa è una cosa molto divertente ma allo stesso tempo molto importante. Andiamo a clippare il nostro gradiente al livello che abbiamo appena creato e andiamo a dargli il metodo di fusione screen oppure o scherma o scolora uno dei due. Dobbiamo vedere quale rende meglio. Adesso queste impostazioni che vi faccio vedere sono assolutamente arbitrarie perché le ho già sperimentate e dipendono semplicemente dalla mia scena. Quindi come potete vedere stiamo ricreando il riflesso che dalla luce della finestra si getta sopra a quest'anta. Devo aver sbagliato qualcosa perché l'effetto non è proprio quello che volevo. Quindi vediamo un attimo che cosa ho fatto. Ho messo screen su questo livello non era quello che volevo. Screen deve andare sul livello del gradiente ed ecco che infatti adesso l'effetto è giusto. Come potete vedere infatti le cose arbitrarie che ho messo dentro adesso le vado a ritoccacciare un pochino. Questo è arbitrario nel senso che dipende da quello che stiamo facendo e da quello che vogliamo ottenere ovviamente. Bene ora come potete vedere ovviamente dobbiamo fare la stessa cosa anche sulle altre ante per cui andiamo semplicemente a ripetere lo stesso procedimento. Quindi io vado a fare una selezione. Queste sono selezioni poligonali quindi sono molto semplici. Le facciamo con lo strumento lazzo. Non c'è bisogno di scomodare la penna. Qui andiamo a clonare quest'anta che in questo caso è un'anta sana di suo. Siamo fortunati perché non tutte le ante presentano questo problema. Non su tutte le ante si vede così vistosamente quel problema. Quindi andiamo a clonare. Cloniamo sempre l'anta più grande sull'anta più piccola ovviamente. In questa maniera non corriamo il rischio di sbordare e ci mettiamo di meno. Però va anche un po' a fortuna ovviamente perché dipende da quali ante abbiamo a disposizione. Ok eccoci qui con la nostra anta nuova e nuovamente abbiamo il problema della maniglia. Quindi avevo promesso di farvi vedere dei metodi diversi. Quindi adesso andiamo a rivelare diminuendo l'opacità la nostra maniglia e andiamo a tirarla fuori semplicemente con un pennello con cui pennelliamo con il colore nero sulla nostra maschera. Qui dipende ovviamente anche dalla forma che dobbiamo rivelare. Questa qui essendo una forma di nuovo poligonale veniva comodo farlo con lo strumento lazzo però è vero anche che forse, dico forse, nel momento in cui andiamo a pennellare, quindi io faccio una prima pennellata poi tengo premuto shift e vado a pennellare in un secondo punto così faccio le linee dritte. Nel momento in cui uso una tecnica di questo tipo vedete un tocco da una parte e un tocco dall'altra con un'opacità ridotta del pennello magari quindi adesso sto lavorando al 30% non al 100% vedete che vado a miscelare i due livelli e il risultato secondo me è assolutamente decoroso. Già così come potete vedere non ci ho messo un'infinità di tempo ma il risultato è assolutamente spendibile a livello professionale quindi non so dirvi quale delle due tecniche vi consiglio di usare perché dipende dalla forma del pomolo che volete rivelare. Se fosse stato tondo vi avrei detto sicuramente i pennelli essendo poligonale vanno bene entrambe le cose. Ora andiamo a fare la nostra solita cosa esattamente come prima andiamo a creare un livello gradiente io rimetto dentro a memoria più o meno gli stessi parametri di prima ma e vado a fare la clipping mask di nuovo vado dicevo a mettere più o meno gli stessi parametri di prima ma come vedrete sono abbastanza arbitrari anche perché soprattutto la direzione della luce cambia in funzione anche dell'altezza dell'anta per cui vedete che devo andare a rimaneggiarla più o meno per tutte le ante perché non sarebbe uguale su tutte le ante questo tipo di riflesso quindi vado a toccacciarlo spesso cerco di fare una cosa con con una sua coerenza interna questo ovviamente è una questione anche di gusto perché non esiste un modo giusto sbagliato di fare questa cosa io l'ho arrangiata in questo modo e vi faccio vedere il prima e il dopo di cui credo di poter essere abbastanza contento. Bene come avete potuto vedere shooting non particolarmente complicati in questo caso ho scattato per l'appunto con la Canon EOS R con il 1435 che ho appena preso che è la stessa fotocamera con cui sto registrando questo video per cui è una combinazione che mi sta piacendo molto è una macchina che mi dà grande soddisfazione perché riesco a scattare delle visuali molto molto wide quindi riesco a dare quello che voglio dare al mio cliente si tratta anche di una fotocamera con un'ottima gamma dinamica quindi non è la migliore che c'è prima ed è pari alla mia 5D Mark IV quindi mi sto trovando molto bene con questa combinazione anche se non amo fare foto con le mirrorless devo dire mi sto trovando bene e mi piace moltissimo questa lente. Come avete potuto vedere i casi che vi ho mostrato oggi sono un po' limite perché io non potevo sistemare quelle cose in loco perché le trapunte non potevo certo mettermi a stirarle e per quanto riguarda la cucina non potevo mettermi a pulire quelle superfici perché ci avrei messo del tempo avrei fatto disordini avrei peggiorato la scena nel cercare di pulire quindi la cosa migliore era andare a risolvere in post produzione che è esattamente quello che ho fatto ovviamente il cliente è pienamente soddisfatto per cui obiettivo centrato a questo punto se ho fatto centrare un obiettivo anche a voi vi chiedo un like a questo video perché se avete imparato qualcosa mi aiutate anche un pochino con l'algoritmo di youtube lasciatemi sapere in un commento se avete imparato qualcosa se questa tipologia di video vi è stata utile se ne volete degli altri qualunque cosa vi venga in mente vi aspetto nei commenti tendenzialmente rispondo a tutti e signori è stato un piacere vi do appuntamento al prossimo video